Pensiero è un pensiero che io, perché è così, è un pensiero che si allarga a tutta la segreteria, a tutte le segreterie che hanno accompagnato il lavoro che faccio dal gennaio del 1993, che è un lavoro fatto di cuore, questo voi lo sapete, lo vedete, l'avete visto negli anni e per fortuna è un lavoro che si è potuto fare anche discretamente bene a livello di impegno, perché proprio grazie a questo gruppo di persone che di volta in volta, di anno in anno, si è succeduto nella segreteria nazionale e sono cambiate diverse le persone negli anni, ha permesso a questa segreteria, a questo settore, a questa associazione di fare tanti piccoli miracoli che ben conoscete, peraltro oggi è indubitabile che sia una giornata per me speciale, io mi sono fatto una serie di appunti, perché di cose da dire sarebbero tante, voi sapete già che sono lo corroglio mio, poi quando faccio queste robe ne dico tante, perché mi piace cercare di traslare agli altri quello che provo, sia nelle cose che vanno, in quelle che sono più difficili, far capire quanto è complicato questo lavoro non per dare un senso di gratificazione a quello che faccio, ma per dare un senso dell'impegno che tutti quanti noi, ognuno nel dare e nel fare, permette anche a noi di fare bene quello che facciamo, di fare meglio quello che facciamo, perché è chiaro che è tutto difficile, giornate come quella di ieri, come è stata quella dell'anno scorso quando abbiamo avuto l'incontro con l'Ube a Milano, di domenica pomeriggio dove di quelle 700 persone un paio di 100 arrivavano anche da 6-700 km, sono la sensazione, la dimostrazione che veramente il cuore va oltre, è l'impegno, l'attenzione, che è uno dei valori principali di cui parlerò oggi, è l'amore verso il proprio lavoro, è forse quello che ci accomuna un po' tutti, che ci fa stare qua, ci fa continuare a lottare, ci fa andare avanti come ieri dicevano quelli che sono, se non succede il tavolo, cioè andate avanti, anche se è 20 anni che dite le stesse cose, anche se lo sanno pure i muri che ci abbiamo ragione, perché lo sanno pure i muri che ci abbiamo ragione, lo sanno in Parlamento che ci abbiamo ragione, quando feci l'audizione l'anno scorso a settembre proprio sulla riforma Madia, ma l'anno prima altrettanta audizione sempre in quella commissione sulle famose semplificazioni ACI che riuscimmo a stoppare, quelle che per dei possesso facevano tutto telematicamente con i vari soggetti, quando finivo quelle audizioni mi venivano a salutare dal Presidente Finocchiara agli altri, perché alcuni mi conoscono perché è gente che ha ragione Meta, noi siamo una spina sempre, stiamo lì e continuiamo in perterriti, una goccia che cade sempre, cade ormai da tanti anni e dice sempre le stesse cose perché quello è, mi venivano a fare i complimenti sulle cose che dicevamo, test archivio, il fatto dell'unicità, bla 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 bla, c'erano con me Fabio Beccucci e Emilio Patella e mi dissero, cavolo ma ti devi sentire contento se ti devo dire queste cose, no io purtroppo sono fatto male, mi fanno una rabbia ancora di più, perché mi dicono da anni che ci abbiamo ragione, poi a livello pratico stiamo ancora a parlare sempre maledettamente delle stesse cose. Oggi è una giornata speciale per me, è in dubbio, è in dubbio per una svariata serie di motivi, ma è una giornata speciale perché per me questo è stato un anno speciale e l'ultimo mese è stato un mese speciale, l'ultimo mese perché come sapete ho condiviso con le mie grandi famiglie, quella personale, quella del mio ambiente di lavoro in Ascoli e la grande famiglia di Unasca e le vicissitudini che mi stanno in qualche modo interessando, perché credo che sia giusto, perché se io sto in una famiglia e per me questa è una famiglia, è chiaro che devo condividere chiamiamole così gioie e dolori, quelle anche di natura personale, ma non perché voglio traslare agli altri quelli che sono i problemi miei e per far capire come l'impegno che uno produce in quello che fa è nel caso mio un dovere, doverne rendere conoscenza agli altri perché io sto qui per fiducia vostra e la fiducia deve essere accompagnata dalla massima trasparenza, massima condivisione di quelli che sono problemi che poi si affrontano, perché nelle famiglie i problemi si affrontano per risolverli ed è importante, oggi in questo anno e avanti sempre più ho necessariamente bisogno del vostro sostegno, perché va oltre il sostegno che mi date a quello che faccio in associazione e non solo. È stato un anno particolare, è stato un mese particolare, in quest'ultimo mese ho iniziato le terapie, quelle classiche che corrono i tumori e l'ho vissuta con alti e bassi incredibili, alcuni li hanno vissuti con me, li hanno toccati con mano e hanno visto come questi alti e bassi comunque ti danno la forza di andare avanti perché questo credo valga per tutte le cose e quindi anche per il lavoro. Scendere ti porta a reagire, perché la cosa più bella che ho scoperto, uno come me che è combattivo già di suo, è che magari di fronte a certe situazioni dure, difficili, tendi ad abbatterti, tendi a fagnappa tutto, invece no, subito dopo si riparte, si riparte più forti e in questi alti e bassi, due settimane fa c'era il film al Senato tra il Gran Premio di Monza che voleva legare i soldi del Prà con il Gran Premio e c'era l'altro film dei demolitori che stavano cercando di sfondare su sta storia delle relazioni esportazioni, due vicende allucinanti, brevemente ne parlerò dopo ma le sappiamo talmente tante che non ti ripeto le stesse cose, che stavamo in quei giorni sempre in continuo contatto con Fabio Beccucci che sapete anche lui ha avuto i suoi delicati problemi e lui è una colonna portante del lavoro che facciamo. Insomma questo Fabio alle 5 e mezzo di mattina, 5 e 40, stavo lì a letto mezzo addormentato perché questo è un periodo che l'adrenalina ce l'ho a mille, quindi sono tornato a non ridormire la notte oppure dormo poco ma perché penso a queste cose, 5 e 40 messaggino, allora reso conto al Senato di ieri bla 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 e allora ha detto Fabio sta bene, se comincia a mandare i messaggi alle 5 e mezzo di mattina e già mi dava una bella notizia e io che mi sono messo pure a rispondergli, quindi alla grande ho detto siamo tornati in quello che è, questo per far capire come si vive, come viviamo noi questa cosa e quanto sia importante, perché la voglia di fare, la voglia del lavoro che fai, la passione che metti in quello che fai, prevale su queste cose ed è una cosa bella, non una cosa cattiva, questo non vuol dire che io debba trascurare, come ognuno di noi debba trascurare quello che vive, ma questo vuol dire reagire, fare, stare in pista perché aiuta pure questo e questo è importante. Se ci vedete in video oggi è anche perché Ottorino Pignoloni lo ha voluto, da quando l'ho conosciuto poco più di 10 anni fa ho avuto con lui un rapporto molto diretto, molto franco, un rapporto che è diventata poi un'amicizia, fatta anche di molti cazziatoni quando non arrivavamo in tempo come voleva lui su una notizia, allora lì erano davvero botte da orbi, un percorso che mi ha fatto conoscere un'asca profondamente e sebbene da esterno mi ha fatto partecipare a questa famiglia, diventarne un tassello per quanto marginale e piccolo, questo è stato quello che mi ha detto qualche settimana fa, tu adesso sei parte di questa famiglia e per questo io mi sento e devo ringraziarlo pubblicamente. Ottorino ha capito e ha fatto capire che la comunicazione, che gli strumenti di comunicazione servivano e sarebbero serviti per raccontare la storia di tutti voi, delle battaglie che costantemente vengono portate avanti da un'asca in nome di due parole, legalità e sicurezza. Mi è capitato raramente di incontrare persone così, di animo così libero, da metterti quasi in soggezione, tanto era forte e deciso, eppure con lui bastava poi un sorriso, una parola, magari una battuta sulla sua Juventus o su quanto erano buone le olive ascolane che a Natale faceva preparare per tutti, per gli amici. Da parte nostra, di tutta la redazione, da parte mia, c'è l'impegno a svolgere ancora meglio, ancora più attivamente, ancora con più attenzione un lavoro che ha avuto un grande maestro. Lo stesso maestro che adesso probabilmente da dietro quella telecamera mi direbbe di chiudere perché correrei il rischio di diventare troppo triste e a lui la tristezza non piaceva mai. Proprio ieri il Presidente Antonangelo Coni ha voluto inviarci un ricordo che adesso vi proponiamo e che vi leggiamo integralmente. E' con immenso dolore che mi accingo a scrivere questa che mai avrei pensato e voluto scrivere. Sono passati tanti anni da quel giorno che ci incontrammo, quasi per caso, per cambiare e ricostruire la nostra nuova UNASCA. La sua capacità di unire, fare da collante, si è rivelata dal primo giorno che prese il timone della Segreteria Nazionale Studi nel 1993. Si dimostrò subito un uomo pronto alle grandi sfide, con un verbo imprescindibile, legalità. Su questo tema ha improntato la sua vita di uomo libero, senza compromessi, pronto sempre a difendersi ed eventualmente attaccare chi mai avesse provato a negargli la sua libertà nella legalità. E' ciò che ha avuto modo di professare per tanti anni, sempre parlando e ragionando al plurale, con l'obiettivo sempre ben chiaro di soddisfare le esigenze di tutti. Fra i suoi principali pregi non posso tralasciare l'arte di ascoltare. Ascoltare sempre tutti, e proprio da quell'arte, è riuscito ad unire ciò che oggi è la nostra categoria all'interno dell'Associazione. Non è lontano il giorno che mi chiamò e col parere favorevole degli addetti ai lavori mi traghettò la Presidenza. Ho sempre viva l'immagine della sala stracolma, della soddisfazione dei presenti ed in particolare la sua. L'UNASCA per l'ennesima volta si era rinnovata, col principio imprescindibile della forza e coesione del gruppo. Voglio chiudere con l'intento di trasmettere a tutti voi che la forza e il riconoscimento che negli anni l'UNASCA ha meritato non potranno essere dilapidati da nessuno. Il mio amico ripeteva spesso, siamo se ci siamo. L'UNASCA è e sarà. Ora sarà compito nostro continuare nel solco da lui tracciato ed onorare quanto da lui lasciato. Torino non era soltanto UNASCA, la sua città, la sua Ascoli lo ricorda spesso, lo ha ricordato come il padre del carnevale, una manifestazione che lui sentiva tantissimo e che quest'anno gli aveva conferito anche la mascherina d'oro. I funerali che si sono tenuti l'altro martedì in Duomo hanno visto la chiesa strapiena, moltissime persone, amici, istituzioni, gente che ha voluto testimoniare l'affetto, la vicinanza nei confronti della famiglia. Anche sui social network il ricordo di Ottorino continua a manifestarsi sia sul profilo di UNASCA che attraverso le bachecche degli amici che ci tengono a scrivere, a mantenere vivo il suo ricordo. Sotto impressione vedete qualcuno di questi commenti, di queste lettere che sono state scritte per Ottorino. Una delle novità che il comitato di presidenza di UNASCA aveva approvato in occasione dell'ultimo congresso era stata la diretta web che a Ottorino era piaciuta moltissimo, a Ottorino e non solo a lui naturalmente. Durante questo congresso gli abbiamo regalato un piccolo video per ringraziarlo di 23 anni di segreteria che aveva tenuto dal 1993. Oggi per chiudere questa edizione naturalmente un po' particolare del nostro Tergi TV News vi riproponiamo quel video per salutare quell'uomo a cui ognuno di noi ha voluto davvero molto bene. Grazie Otto, buon viaggio. Grazie. Fate bravi perché se no se cominciamo così alla fine sarà un lago qua, capito?